Grazie. 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 E' una missione di cui compiti ha già illustrato il Ministro Alfano. Che cosa succede per quello che riguarda il passaggio? Ovviamente nella partenza di una missione nuova c'è bisogno di accompagnare questa partenza con un lavoro che la Marina continuerà a fare, che sarà un lavoro diverso rispetto a quello fatto da Mare Nostrum per imponenza dell'impegno, significatività dei mezzi, ma che sarà un lavoro che consentirà il passaggio delle competenze. Come?